Metti una domenica in Casentino a caccia delle mille emozioni che il territorio sa dare, poi risali in auto e torna verso Arezzo. Ebbene, tutto il relax guadagnato si trasforma presto in stress. Le code infatti, formate soprattutto dal cantiere nei pressi di Rassina, sono pesanti. Un nastro rosso di fari visto il cambio dell'ora che rischia di innervosire alla guida anche il più tranquillo degli automobilisti. Un problema segnalato dai sindaci che in estate si sentirono rispondere che si sarebbe trattato di una tempistica lunga. Al momento il cantiere con la strada stretta da un muro crea disagi sia durante i giorni feriali con i numerosi mezzi pesanti che interessano la zona, sia nei giorni festivi con il flusso turistico. L'impressione è che soprattutto nel periodo natalizio, quando sia ad Arezzo verso la Vallata sia viceversa, vista la presenza di iniziative legate al Natale, ci sarà un grosso flusso turistico, la situazione non possa che peggiorare, stante anche il meteo. Un appello da lanciare per cercare di risolvere una situazione davvero troppo pesante per l'intera Vallata che paga sia in senso economico sia in senso turistico un pegno troppo alto al traffico.